Grazie 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 First round Prima series In Tuffi Elmar Garason Lütner Norveggia Grazie 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 Grazie. 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 Sette, sette, sei e mezzo, sei, sei, seconda round, seconda serie di tuffi. Grazie. 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 Quattro e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque, cinque. Grazie. 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 Gatti. Grazie a tutti. Sette, siete, sette e mezzo, sette, sette... Ognia. Grazie. Cinque, sei e mezzo, sei e mezzo, sei e mezzo, cinque e mezzo. Trevande, terza serie, tutti, qualsiasi, lume. Grazie. Grazie. Cinque e mezzo, sei, 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 cinque e mezzo, va due. Grazie. Cinque e mezzo, cinque, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque. Cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo. Cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo. Cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo, cinque e mezzo. Quattro round, quattro sede di Ufi, grazie a tutti gli uomini. Grazie a tutti. 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 1 e mezzo, 1 e mezzo, 2, 2 e mezzo, 1 e mezzo. Last round, ultima serie di tuffi, 1 e mezzo, 4, 2 e mezzo, 1 e mezzo. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 3ª round. 4ª serie di tuffo. Martiglia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Cinque, quattro a mezzo, quattro a mezzo, quattro a mezzo, quattro a mezzo. Quattro a mezzo. Quattro a mezzo, quattro a mezzo, quattro a mezzo, quattro a mezzo. Quattro a mezzo, quattro a mezzo. Quattro a mezzo, quattro a mezzo, quattro a mezzo. 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 Grazie. 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 Grazie.